ehi amici altro mega gioco ford defense, incredibile andiamo avanti penso 27 anni fa e devono ancora prossimamente i cutter nemici sono unità molto veloci e piuttosto vulnerabili puoi costruire in questo luogo dai e poi che giro fa io faccio fare così quadrato vai anzi triangolo 2, 3, 4, 3, 2, 1, via non so neanche se è detto fare un altra cosa che ai doppi che arrivano fatto bene a vediamo un potenziamento 65 allora è una serie di sette giochi identici per fortuna fanno giri in girella non vanno diretti interessante interessante o possiamo potenziare anche questo dei barili non voglio che comprare i barili sono giochini così da fare come in trattempo intrattenimento tra un gioco forte e l'altro ok perché si è messo in pausa non lo so guarda che belle fucilate che gli date queste barchette ora voglio fare un potenziamento al 3 vediamo se diciamo a farlo vuole un sacco di soldi però allora potenziamento al 3 sicuramente di togliere la vista completa credo a 100 solo belli potenziati grande grande dai che riusciamo a fare tutto senza commettere errori ragazzi incredibile allora io effettivamente avevo trovato pochissimi video riguardanti a questo gioco qua allora sui sette che ho comprato la collection collection collezione di questa tipologia di giochi diciamo che è arrivato fatto bene a farla perché passano sicuri se non riescono a farla qualcuna perché l'altro si spara è andata 4 su 4 bella lì danno balestra assolutamente sì comune più alto l'oro eh bottino 5 custi in più bello costo torre balestra 4 e 4 io farei ok dai ci siamo hanno una portata media eh certo 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 mi ha dato alle torri allora il arrivano da scusa il barile 100 47 vai go allora a regola arrivano di lì oppure no allora o potenziamo quella lì o ne mettiamo un'altra all'arrivo all'ingresso ok si numero di andate l'avevo capito no ok no no ah ma fa il giro fa il giro in dirello sicuramente dopo le arrivarà qualcosa di posto credo eh cominciano arrivare in tanti non le ho portati in realtà lo prima di le potenziate al massimo così quando arrivano già lì da una bella una bella legnata ah Grazie a tutti. 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 un altro cannone. cannoniamo. a tutti. 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 un po' a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. bellissimo è un mega mitragliatore l'ultima ondata amici non è vero va vai 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 e vai guarda ce l'abbiamo danni a fannone ok dai facciamo l'ultima allora in teoria è solo da due parti ma anche perché davvero allora eh già scusate è pardata malissimo proprio allora facciamo il barino vai 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 no no non lo voglio fare a tre voglio fare a tre mia testolina dice che lo vuole fare a tre allora guarda questo non è male questo non è male 45 andiamo poi ne arriva un altro qui eh 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 poi ah sembra sembra che andare di notte raga no prima ne era passato uno adesso ne sono passati davvero tanti come mai cannone 45 45 proviamo proviamo così eh ma cannone così è proprio un disastro così è proprio un disastro ora vediamo un attimo se così funziona si funziona bene se questa è la tattica allora vediamo di qui poi di là un altro pacchetto a comprare come allora ma come mai la prima volta l'ho fatta bene e ho voluto rifarla perché ne è passato uno è un disastro invece sempre questo è il discorso sempre questo è il discorso perché cioè ma non dispara neanche con la non dispara neanche con la il raggio d'azione troppo basso ecco perché perché il raggio d'azione ha un po' più grosso scusate 100 100 non 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 però di certo arrivano quelli lì che le torrette non non gli fanno più niente e vado 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 e nascono le barchette 8 ondate tra l'altro 8 ondate tra l'altro penso che adesso ci siamo più o meno però io volevo fare come potenziamento il 500 questo qua incredibile 8 ondate tra l'altro 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 8 ondate tra l'altro